Con la felce si può fare un ottimo macerato contro gli insetti Serve per allontanare la cocciniglia e gli affidi Per ogni litro d'acqua piovana si usano 100 grammi di foglie fresche E devono macerare per circa 7-10 giorni Dopo che abbiamo filtrato i scarti vegetali li possiamo mettere in un buco oppure nella compostiera L'acqua filtrata la mettiamo dentro una bottiglia e con uno spruzzino andiamo a spruzzarla nell'or Ed è preferibile usarla in via preventiva